Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti a mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi parliamo di stella segreta della settimana numero 3 ragazzi. Non c'è lo stendardo questa volta ma bensì abbiamo la stellina. Come facciamo a capire dov'è? Beh ragazzi, basta solo guardare la schermata di caricamento che ci viene data al completamento di tutte le sfide. Non so se l'avete notata ragazzi, vi faccio uno zoom, guardate un pochettino proprio sopra di me. Quello ragazzi è il punto dove la stella segreta si nasconde. Quindi andiamo a vederlo insieme ragazzi. L'ho pingato anche si trova indicativamente in questa posizione. Avete capito benissimo dove siamo? Guardate un po'. Togliamo intanto il marker. Avete capito dov'è no? Dovrebbe essere l'unica location che va a rispecchiare il disegno che è presente nella schermata di caricamento. Con davanti questi due, non lo so, chiamiamoli dei, io non so bene cosa siano. Questa è la posizione esatta. La stellina potrebbe trovarsi qui, potrebbe trovarsi qui dentro o addirittura ragazzi, bisognerà andare in cima, proprio sopra dove finiscono le scale. Vediamo se ci riusciamo ad arrivare. Chiedo scusa al Deo. Scusa! Scusa anche a te, scusa perché mi serve solo il mattone. Ok, perfetto. Dovrebbe magari essere necessario salire. E potrebbe tranquillamente trovarsi anche qua in cima. Insomma ragazzi, questa è la posizione esatta. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Codice creator, xyuderone. Noi ci vediamo presto, ciao!